Bentornati su MyFootballJersey. Dopo aver visto tante maglie, avevo deciso di cambiare e mi sono imbattuto in questa bellissima felpa con cappuccio della Jordan per off-white. Devo dire fantastica. Ditemi voi cosa ne pensate. Alla prossima. Felpa molto bella, tessuti veramente pregiati, ottime rifiniture, il disegno mi piace, molto semplice, però voglio dire nel genere di off-white e Jordan. Anche il retro, niente male. Il costo, lo vedete come al solito qui sopra, interessante, voglio dire. Poi decidete voi cosa fare. Se volete maggiori dettagli, trovate i riferimenti qua sotto, in descrizione. Andate a vedere perché insieme a questa trovate tantissime altre offerte, maglie, felpe, che dicendo, che vi attendono. Ora vi lascio la parte finale. Prima però, iscrivetevi al canale. È un piccolo gesto, basta un click, ma ci aiuta a mostrarvi maglie come questa, tutti i giorni. Per oggi è tutto, alla prossima.